bello ragazze e ragazze quali credi sono del 88 oggi sarà un video particolarissimo una serie una serie che voglio portare perché oggi inizia il campionato juventus chiama verona ma c'è tanto di ventus e poi se mi chiedete altre napoli e così la ve lo faccio allora ragazzi secondo me se qualche giorno di sabato gioca tanto il napoli secondo me faccio anche il napoli però non lo so allora ragazzi in questa serie dovrebbero mettere like per il prossimo video adesso ti dirò un risultato a caso a caso normalmente se lo fanno se lo fanno ho vinto se lo fanno ho vinto e continuiamo ancora se non lo fanno e di mattina faccio un video dove dico cosa e di pomeriggio faccio un video dove dove bevo l'aceto ragazzi l'aceto ragazzi l'aceto il live e prima moro ragazzi stia vorrei morire ragazzi alzo sparo non so com'è un 3-0 secco però ragazzi non è che devo dire chi segna perché non peccano mai con il mio fortuna poi modulo neanche ho letto che con un 4-3-2-1 con 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 buonucci chelini buonucci da bbc e ritorna buonucci chelini alexandro cansello e lì e brecciane e brecciane pianic e ai lati ai lati e di balla e come calci chiama e douglas costa e c'è e punta centrale ronando che ci segnerà un gol ci segnerà lo mando a bello mando a portogallo lo mando a real madrid ragazzi sparo un 3-0 secco e spero che il visi stai scazzando raga ehm aspettiamo raga ehm se fanno se perdo se fanno qualcosa li dico su instagram seguite su instagram è da gamer.88 ehm dopo aver seguito su instagram state le mie storie fate mi piace quindi eh ragazzi spero che vi sia vi sia piaciuto e arriviamo a 3 like eh saluto giuse fi e c e fi trecento pagi offene uno e ragazzi spero che vi sia piaciuto e arriviamo a 3 like per questo video bella no aspettate che bella ciao che bella ciao bella bella